Sono Alberto Ghirardello, sono il designer che ha progettato la Broca, visitrice del Contest. Il progetto è molto semplice, è partito tutto da una forma a goccia che ho voluto replicare sull'imboccatura che, oltre ad essere segno estetico, è anche un elemento funzionale perché questa strombatura permette di essere riempita di acqua con molta facilità e allo stesso modo quella che è la punta della goccia girata diventa un peccuccio per permettere il deflusso del liquido all'interno e quindi diciamo che il concetto è quello di avere un segno estetico che diventa anche un elemento funzionale per un progetto che si usa tutti i giorni sulla tavola.